Ciao sono Gorkenji, oggi siamo nuovamente qui su Brawlall Che se vi ricordate è quello che vi ho messo un po' di tempo fa Delle key gratuite Ci ho giocato ancora per parecchio tempo Poi l'ho abbandonato Però visto che stanno facendo tante cose Intanto qui hanno messo delle robe in più Io per oggi volevo fare una rank Adesso vi faccio vedere Che possiamo scegliere se fare 1 contro 1 o 2 contro 2 Però 2 contro 2 credo che debba chiamare un amico Quindi non ne ho voglia Va bene l'1 contro 1 Ah ok, è vero, ne avevo già fatti un po' Credo che ne servono 10 Per entrare in un tier E me ne manca giusto 1 Intanto hanno aggiunto due personaggi Da quando hanno lanciato la beta Che è questo Brain E questo Asuri Intanto poi hanno messo la rotazione Come in League of Legends Quindi ogni settimana Credo ogni settimana Tengono sbloccati dei personaggi Mentre se ne vogliamo usare uno di questi Dobbiamo pagare con i soldi del gioco O non so anche se soldi reali Vabbè qua hanno messo le missioni Per guadagnare gold Però io Volevo usare Mi sono schillato Schillato Usavo più che altro questo Infatti l'ho anche comprato Livello 10 Gnash L'ho usato parecchio Vediamo se sono ancora capace Perché possiamo andare contro chiunque Vediamo Allora Allora Qua intanto Saltiamo un po' così Mentre aspettiamo che qualcuno Sia pronto per sfidarci Oh qua è una bomba Hop Bomba Ok Intanto non troviamo player Allora picchiamo No 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 Voglio trovare un player Voglio trovare un player Posso vedere che siamo in 4 qua E non puoi darmi uno di questi 4 Hop 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 Via di qui Mi piace il martellone No Baa Tutto Uuuuuh Lala Intanto però non mi sta chiamando Vabbè Noi continuiamo Ma credo che questi qua siano giocatori E non bot Oddio Oddio Ho messo la mina Scusate Eccolo Eccolo Dominating Tanto non mi sta cercando player E dai Ok Ok Lo spiego lancia Uuuuh Giro 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 Così meno ci scaldiamo un po' Tanto qui io Sto vincendo ma Niente Sto vincendo Eccolo 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 Questo guardazzo No Oh Pop pop Ok Non troviamo Giocatori Davvero Eccolo Eccolo Continuiamo a fare I casini Diciamo Eccolo Eccolo Carico Fugno Scusate Scusate C'è così poca gente Oh Abbiamo trovato Un Turo Che è un bronzo Quindi Non so se Dovrebbe essere Bastanza scarso Ma non so quanto sia Forte Io Mi aspettiamo che Cada qualcosa Ah Ok Per ora Non mi sembra Chissà che cosa Anche lui al martello Anche lui al martello Vieni qui Eccolo Scarsone Scarsone Dove vai Dove vai Oh mio dio Stavo per fare Il casino Vieni qua Così me lo vediamo In diretta Che tier Mi mette Ma credo che Il bronzo Ci sia tutto Perché non penso Abbia giocato così bene Da sopra E se mi fa Scontrare adesso Contro questi qua I bronzi Eh mio dio Ecco Siamo un po' lentico Con questo Ma fa bene Tanto lui è già rosso Oh mio dio No 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 E dai Eeeh Bravo Bravo lui Eeeh Già 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 Uff Ok Una pitellata Ui Ui U No Ritorniamo Ah Voleva farmi cadere Così eh La mina La mina La mina Ok Oh No Mi ha caricato Mi ha caricato Siamo quasi pari Perché lui Ok Quella è leggera finalmente E così sempre veloce io Benissimo Se no Mi lascio il tempo di attaccarmi Ecco qui Oppala Oppa No L'ho preso Ecco L'ho preso anch'io Eeeh Sempre martellone C'ha questo E che cazzo E che cazzo Eeeh Volevi eh Ok Scusa qua Ha mille armi Potentissime Uff Ok Sprecata Eeeh Non ce la farai No Ho mancato Ma lui lo sapeva Lui lo sapeva Sto toro dei puffi Vieni Vieni Come on Oh 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 Mi ha preso No Ah cavolo Però dovrei riuscire a batterlo subito No Ho mancato Devo schivarlo per ora Alle armi Via 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 Oppa Eccolo Eccolo Ok Tutto si decide qua Tutto si decide qua Lui non riesce a prendere l'arma Eeeh Non riesce ad attaccarmi No 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 Scherzavo Scherzavo Allora siamo ancora a pari Eh che cavolo Dai Non farmi arrabbiare Oh Trappolo Sì Contaci Dai muori Muori Eh vai Abbiamo vinto Abbiamo vinto Player 1 Win Sì Abbiamo vinto Dai allora ne facciamo ancora uno Allora vediamo un po' Abbiamo Ok abbiamo preso un po' di gold Perfetto Abbiamo fatto la missione Bronzo 1123 Allora ne facciamo ancora uno Dai Aspettiamo di nuovo un casino qua Prima che ci trovi una partita Scusate eh Ecco intanto qua ci sono anche due nuovi Che non l'ho neanche mai provato Oh 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 Quello cos'ha Nascimitarra Sì Ok Oh Presa Oh Presa così E presa così Ok abbiamo già trovato Un 1216 Quindi dovrebbe essere abbastanza forte Avrò anche molto più alto del mio Ok Vediamo cosa fa Eh no io volevo un'arma però Raga No Eccolo Oh cavolo Oh cavolo Cosa fa Ah Mette le ali Qua Vieni qua Io sono veloce Eeeh Anche stupido Oh adesso siamo tutti e due veloci uguali eh Eccolo 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 Che ti ho fregato Però stavolta E Ferma 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 No 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 Non cadere giù Ti prego E io volevo fare La super mossa La super mossa Ecco Eccolo Ehi cosa vuoi fare Cosa vuoi fare E che cavolo Mi lasci prendere un'arma Grazie Oh il martellone Il martellone Il martellone Zor Tanto mi ha fatto Troppi danni No ma mi ha preso Oh i murci E non ci muore E che palle Non riesco neanche a buttarla una volta fuori Ho visto che il rank era troppo alto Ciao Prendo l'arma Anche se non vuoi Ehm E che Si Ma tu sei un pro Eh ho perso Perché Non riesco a salire Sbagliato Oh mio dio 3 a 0 Come concludere un video Proprio The indecider Eeeh Va bene Va bene Va bene 1111 Oh mio dio Quanti uno Quindi io direi Che anche per questo episodio È tutto Come sempre Commentate Iscrivetevi Mi piace E al prossimo episodio Ciao